Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla nostra lettura di oggi quindi giriamo le carte vediamo un po' quali sono le energie di oggi un po' tristine le energie di oggi però noi siamo sempre in gamba e per il resto vi ricordo che la parte centrale della nostra stesa riguarda qualunque ambito della vita quindi amore lavoro famiglia progetti amici lo sapete voi mentre nella seconda parte della nostra stesa vedremo nello specifico l'amore cominciamo subito quindi con un cavaliere di spade un nove di denari e un cinque di denari possiamo già subito dire che con due carte di denari stiamo proprio parlando di cose molto pratiche che accadono cose molto fisiche le spade invece parlano di pensieri o di comunicazioni tutto inizia con un cavaliere di spade quindi sembra che qualche notizia arrivi sembra che qualcosa arrivi per qualcuno potrebbe anche trattarsi di un'idea ma per la maggior parte di noi si tratta proprio di voci che ci arrivano all'orecchio ci si tratta di cose che veniamo a sapere ora potrebbe essere appunto un amico che ci viene a raccontare qualcosa potrebbe trattarsi di cose che magari leggiamo sui social e quindi sgamiamo qualcosa relativamente a qualcuno non lo so magari questo me lo direte voi nei commenti però insomma qualcosa ci arriva all'orecchio decisamente qualcosa ci arriva all'orecchio e come dicevo prima per qualcuno potrebbe trattarsi di un'idea o di un dubbio che ci viene ma nella maggior parte dei casi sono proprio notizie c'è poco da fare la cosa bella è che però nonostante queste notizie non sembrino proprio bellissime o comunque non sembrino proprio piacevolissime noi siamo a posto con il nostro nove di denari ingambissimi come al solito non ci tocca nulla non ci sfiora né il parere né il giudizio degli altri né le cose che possono esserci dette quindi dal nostro dalla nostra posizione molto ma molto solida sembra che la scelta che dobbiamo fare a seguito di tutto questo è semplicemente allontanarci da un qualcosa scegliere di non dare importanza a qualcosa in effetti ecco non si non dobbiamo necessariamente allontanarci da qualcuno o da qualcosa qui sembra che le carte vogliono invece puntare l'attenzione sul non dare importanza non dare peso per la serie ma chi se ne frega per la serie ma io veramente devo star dietro a tutte le cavolate degli altri o comunque anche a queste piccole cose che in fondo non mi toccano più di tanto no io credo che questa sia in effetti la scelta migliore e la scelta più saggia ed è il mini futtu ma vediamo aggiungiamo adesso le nostre altre carte e vediamo un po che cosa nello specifico sta accadendo dunque c'è la nascita di un qualcosa il bugiardo era da un po che non vedevo la carta del bugiardo poi abbiamo la ne abbiamo due la ruota della fortuna l'unione il piacere e gemelli e cancro poi abbiamo il desiderio con la luna rovesciata e i dettagli ok e allora io credo che il motivo per cui noi non ci facciamo scalfire più di tanto da questa situazione sia il fatto che questo qualcosa che ci arriva all'orecchio questo qualcosa che vediamo in realtà non è proprio vero vero no non è proprio vero vero in realtà noi ci accorgiamo che c'è qualcosa che non quadra i conti non tornano e quindi questa cosa che ci viene detta che potrebbe in teoria dare inizio a una situazione particolare non riesce a dare inizio a questa situazione particolare semmai piuttosto piuttosto che dare inizio a situazioni spiacevoli e complicate e difficili da gestire sta dando inizio a un nostro atteggiamento un atteggiamento stra positivo io direi perché il risultato è stra positivo perché noi riusciamo a riconoscere le bugie degli altri o comunque riusciamo a riconoscere quali sono le cose a cui dare importanza e quali sono quelle a cui invece non dare importanza perché realmente non ne hanno ed ecco che qui nasce una nuova parte di noi nasce un nuovo modo di affrontare la vita e le situazioni e questo nuovo modo vi posso garantire o meglio ve lo garantiscono le carte è sicuramente è sicuramente come dire vincente ecco è un modo decisamente vincente la seconda carta infatti che è il nove di denari che rappresenta proprio noi che nini futtemu quindi proprio non ci interessa più di tanto non ci riguarda non ci facciamo scalfire minimamente ma non solo ma non solo in tutto questo è proprio grazie a questo stimolo e a questo input noi praticamente ritroviamo l'unione con il nostro lato fortunato ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati tra l'altro le due cose in realtà sono causa ed effetto l'una dell'altra perché se io dico noi ritroviamo l'unione con il nostro lato fortunato significa che il nostro atteggiamento mentale ed emotivo attira cose positive attira situazioni equilibrate a noi e stiamo parlando di legge di attrazione di legge di risonanza stiamo parlando di frequenze che noi emettiamo e che attirano a noi le cose e le situazioni che risuonano con la nostra frequenza positiva e vincente quindi o la consideriamo come un qualcosa che arriva a noi o la consideriamo come un qualcosa che noi autocreiamo e autogeneriamo per noi stessi poco importa ciò che realmente importa è il fatto che noi ritroviamo il piacere e la forza di sentirci tutti d'un pezzo e soprattutto questa cosa ragazzi riguarderà i cancri i cancro e i gemelli quindi chi di voi ha questo segno zodiacale come sole come ascendente o come luna avrà un effetto particolarmente deciso di questa energia si sentirà probabilmente più sicuro di sé sul come comportarsi e sugli atteggiamenti da assumere in diverse situazioni e decisamente questo è appunto il modo migliore per attrarre cose belle l'ultima carta con il mini futtu cioè il lascio perdere non voglio neanche pensarci a sta roba è associato al desiderio alla luna rovesciate ai dettagli in realtà sembra che non sia tutto chiaro 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 sembra che ci siano ancora delle cose poco chiare e poco visibili ai nostri occhi e il nostro desiderio rimane quello di saperne di più il nostro desiderio rimane quello di capire bene che cosa sta succedendo e perché soprattutto certa gente deve sparare balle cioè che motivo hanno le persone ebbene ne hanno tanti motivi poi ognuno potrebbe io so che chiunque di voi che sta ascoltando potrebbe scrivere un elenco di motivi per cui la gente racconta palle però in questo caso specifico sembriamo un po curiosi nonostante il nonostante riusciamo ad avere un distacco emotivo che appunto ci permette di non starci male di non infastidirci e di non farci prendere più di tanto però la curiosità rimane la curiosità di andare a scoprire a vedere meglio che cavolo e perché è la luna rovesciata infatti secondo me è una rovesciata ci dice che per adesso rinunciamo per adesso mettiamo da parte questo desiderio non è il momento di spingerci verso il nostro desiderio assolutamente no ma chissà ma magari più avanti potremo perché no più avanti potremo approfondire l'argomento e scoprirne di più e adesso andiamo invece a vedere che cosa accade al nostro sacro maschile e al nostro sacro femminile tiriamo giù le tendine dell'amore il nostro femminile con un matto e il maschile con un no scusate io inverto sempre queste due robe il maschile con il matto e il femminile con il 5 di coppe ricordatevi però che maschile sacro maschile